Luigi Mennella è ufficiale, l'Ischia è in eccellenza, decisi criteri, però a parte il criterio sul campo avete meritato di essere la vera capolista? Indubbiamente è arrivata l'ufficialità, siamo tutti contenti che siamo passati come prima dopo questo fatto un po' anomalo del Covid. E' chiaro che noi abbiamo fatto di tutto per arrivare prima dall'inizio dell'anno, adesso è arrivata questa ufficialità, siamo contenti e aspettiamo poi di ripartire al più presto. Fosse finito il campionato in modo regolare ci sarebbe dovuto essere lo spareggio tra Ischi e Pianura, in effetti evitate lo spareggio e probabilmente entrambi in eccellenza. Il regolamento diceva questo, se si arrivava fino in fondo a pari punti bisognava fare lo spareggio, così non è stato perché come ho detto prima è una stagione particolare. Sicuramente noi abbiamo dimostrato insieme al Pianura di avere qualcosa in più rispetto alle altre e questo si è visto sul campo. Poi alla fine chi la spuntava era proprio su fattori di partite singole che si perdeva qualche punto, l'altra ti passava sopra, infatti è stato così fino a che c'è stata l'interruzione. Però diciamo che abbiamo disputato un ottimo campionato, sin dall'inizio abbiamo avuto qualche battuta d'arresto, però dopo abbiamo dimostrato di essere una grande squadra guidata da un grande allenatore e poi abbiamo la fortuna di avere una grossa società. Una società che in effetti già sta pensando al futuro, mi sembra che voi siete ben sicuri che questo progetto possa continuare ad andare avanti. La società è solida, l'ha dimostrato l'anno scorso, si è visto che noi di dilettanti non avevamo nulla, già si facevano tutte le cose con tanta professionalità, quindi c'è programmazione, so che la società pian piano si sta riorganizzando già per l'anno prossimo, quindi ci sono tutti i presupposti per fare un ottimo campionato anche l'anno prossimo. Un messaggio ai tifosi qual è? Ma dell'entusiasmo, di continuare con questo entusiasmo che c'è già l'anno scorso, di continuare, di stare tutti quanti insieme, che poi come si è visto alla fine i risultati arrivano, se si rema tutti quanti dalla stessa parte. Questo è l'augurio che posso fare a tutta la gente di Ischia e gli sportivi isolani.